Ciao. Ad accoglierci all'arrivo nell'appartamento di Pescata affacciato su lago e montagne, lei, Rosy, Rosanna, Cerinza, Petreca, 59 anni, malata di sla, bulbare, la più aggressiva da quando ne aveva 46. Ciao, la voce del sintetizzatore elettronico che comanda con il movimento degli occhi. Accanto il marito Marco Capelli, sabato saranno 34 anni dal giorno in cui si sono sposati. Festeggeranno l'anniversario con i figli, Lorenzo Emanuel, il più piccolo, aveva solo 6 anni quando la mamma si è ammalata. Per loro ha deciso di continuare a vivere anche quando la diagnosi non le ha lasciato scampo. Ha accettato tutto per vederli crescere. Il ventilatore polmonare con le batterie di scorta, il gruppo di continuità per assicurare che qualsiasi cosa accada, lei continua a respirare. Le bollette elettriche sono pesanti, ma non si può fare altrimenti, spiega Marco, da 14 anni, caregiver della moglie. Immaginavano la loro vita diversamente quando si sono detti sì il 24 settembre 1988, ma poi si guardano negli occhi e insieme vanno avanti. Si comincia la mattina presto e si va avanti fino a sera, senza orario, perché poi anche di notte sono notti che magari va tranquilla, delle notti che magari va aspirata, quindi magari va innalzarsi, fa la macchina della tosse. Si dorme poco, quello si dorme proprio poco, poco poco. Lo si fa per l'amore, perché ormai sono 14 anni che la seguo. E Rosy ha sempre voluto vivere, lo ha detto chiaramente, voleva vedere crescere i suoi figli. Ha voluto restare qui per vedere crescere i suoi figli, perché quando è partita purtroppo la malattia, uno aveva 6 anni, l'altro ne aveva 15. Quindi ha voluto restare qui per vedere, ha fatto questa scelta. Lei è diventato fotografo? No, fotografo no, questa è una parola grossa, fotografo no, ho preso un po' la passione, ecco, perché con le mie uscite non so dove andare, allora mi diletto un po' e poi queste foto intanto le faccio vedere a mia moglie, di modo che anche lei vede la sua lecco nelle foto che faccio. Quali sono le difficoltà quotidiane? C'è una casa da mandare avanti, quindi la spesa, tutta la burocrazia che uccide più delle malattie, due figli da così, la fanno a mangiare, la spesa, è dura. Lei sente l'amore di Rosy? Sì, sì, noi siamo tutti i giorni, è abbastanza che quando esco basta che mi sorride, ecco lì.